Oh, geeze, here we go. Federico? And... Aldo? And... Fabrizio? In the same room. What is this? A crossover episode? You know, that gets funnier every time. E ben tornato a spin-off. Questa è la 3x31. Ci avviciniamo al numero fatidico della puntata che io non presenterò per via di problematiche relative al numero di error nel titolo. Presentazione molto lunga, ma ci tenevo a dire... Infatti. Perdita di tempo. La voce molto felice di questo intro è arrivata alla provincia, periferia di Brescia. Salve, piacere, sono Aldo da Brescia, periferia. Un po' più di vita qua, ragazzi. C'è una felicità nell'aria che... Aldo, fra pochi giorni ci vediamo di persona. Per se sei più contento? Eh, infatti questa cosa mi carica. E invece che c'è da Dublino? Provincia di Dublino, più verso est. La Scozia centro, come al solito. Fabrizio, ciao a tutti. Felicissimo, cazzo. Mi avete trasmesso questa vostra tristezza e malinconia. Non ho capito cosa sia successo. Beh, vede, si è svegliato quattro minuti fa a giudicare dai capelli. E invece Aldo, vabbè, lui lo sappiamo benissimo che questo è il livello massimo di gioia che puoi esprimere. Promettiamo di smettere con questa tristezza di fondo. Tristezza palata. E passiamo con un po' più di enfasi a EFIM in uscita questo mese. Alcuni già usciti, altri che usciranno nel corso delle prossime settimane. Ce ne sono alcuni piuttosto carini. C'è una buona quantità di cartoni animati slash anime. E diverse produzioni italiane, specialmente una, Vangelo secondo Maria. Strabello, è il mio film preferito del mese, giuro. Ma partiamo subito con quello che è già uscito il primo maggio. Sono usciti ben tre film. E il 2 maggio ne sono usciti altri tre. Partiamo con quelli usciti al cinema. Tutti e tre il primo maggio. Sono The Fall Guy, Garfield, Trattino, Una Missione Gustosa e Sei Fratelli. Partiamo con The Fall Guy, che sta tappezzando qualsiasi tipo di social network. Anche questo è tratto da un libro. Scritto da Glenn A. Larson, che ha lavorato in tv o in diverse serie, come Battlestar Galactica, per esempio. Non produce film, che è scritto da Drew Pierce e diretto da David Leitch. E ha per protagonista ovviamente Ryan Gosling, con Emil Blunt, Aaron Taylor-Johnson, Anna Waddingham, direttamente da Ted Lasso. Stephanie Ksu, da Everything, Everywhere, All at Once. Film preferito di Aldo. Un bellissimo film. E Jason Momoa da Aquaman. Ma Jason Momoa fa solo un cameo in questo film. È comunque accreditato. Fa se stesso. Però devo dire che apprezzo molto la campagna marketing, che hanno messo in piedi per pubblicizzare il film. Mi sarà capitato di vedere quella dove sono davanti al classico cartellone, nel tappeto rosso. C'è lui in mezzo, con due stuntmen accanto a lui. E i due stuntmen vengono risucchiati dentro il cartellone. Oppure l'altra, dove c'è lui, è insieme a Mikey Day, che arriva vestito da Beavis and Butthead. Cosa interessante è che è costato 130 milioni. 13 volte in più di Godzilla Minus One. Immagino gli effetti speciali saranno uguali. Il problema sarà il cachet degli attori, ma fa niente. Aldo, vuoi sapere dove è stato girato? No, in realtà no, perché ho scoperto che la Original Score, nella soundtrack, c'è anche Taylor Swift. Quindi io, essendo Swifties, lo andrò a vedere a prescindere. Ok. Ci sono anche gli ACDC e Darkness. Sì, ma non mi interessa, c'è Taylor Swift. Stavamo parlando di dove l'hanno girato. A casa di Taylor Swift? No, l'hanno girato a Sydney. Ah, in Australia. Ai Disney Studios in Australia, sì. Fa piacere saperlo. Per girare il film hanno anche fatto un nuovo Guinness World Record per il più alto numero di cannon rolls in una macchina, con otto e mezzo in totale. Quanti cannoni rollati in macchina? Credo che il record per quello sia molto più alto. Dici? Sì, sì, sì. Otto e mezzo mi sembra poco, si può fare molto di più. Cannon rolls, quando la macchina si ribalta in aria e fa tot giri. C'è anche un video pubblicato dalla Universal Pictures su YouTube. Ma lo stuntman era ancora vivo? Sì, sì. Ah, ok. Nessuno stuntman è rimasto ferito. Ma invece parliamo dell'altro film, sempre primo maggio, che Fabrizio andrà a vedere, in quanto esperto di cartoni animati. Non esageriamo. Che si chiama Garfield, una missione gustosa. Il titolo originale è semplicemente The Garfield Movie. Ce ne sono state 50.000, quindi tutto sommato una piccola disclaimer, anche nel titolo inglese non avrebbe fatto schifo, perché The Garfield Movie non è che mi dice poi tanto. In realtà apprezzo, perché l'altro film era Garfield, due punti, The Movie, e questo è The Garfield Movie. Vabbè, allora... Vabbè, scusami. Una missione gustosa è bello. No, non ho detto che è bello il titolo italiano, ho detto che una piccola disclaimer, anche nel titolo inglese non avrebbe fatto così schifo. Poi certo, se metti una missione gustosa, un po' di basso livello il tutto. Nel complesso, non essendo io un fan di Garfield, ho visto anche il film, immagino fossero i primi anni 2000, e non è che mi avesse esaltato, ma perché in generale non sono cresciuto con Garfield, quindi non mi fa tutto questo grande effetto, non mi fa ridere tanto. Poi questo film ho visto che Garfield è doppiato da Merluzzo, quindi questo potrebbe in qualche modo dare un boost. Non mi sembra malaccio, per quello che ho visto dal trailer. Non è un film che dico che bello, mi chiamato a vederlo al cinema, no, guarda, quando uscirà, con calma me lo guarderò, senza nessuna fretta, non credo che sarà il film d'animazione dell'anno, ecco. Nell'adattamento originale, invece, Garfield è doppiato da Chris Pratt. C'è anche il papà di Garfield, interpretato da Samuel L. Jackson. Il gatto persiano che fa i villain, che ha la voce di Anna Waddingham, quindi compete contro se stessa. Io stavo guardando chi farà il doppiaggio originale di Odi, che adesso anche per me è un volto conosciuto, Federico. Sì, sì, Harvey Guillen, grande, What We Do In The Shadow. Detto ciò, Federico, tu hai detto che lo andrai a guardare e lo recensirai, quindi troveremo la tua recensione sul sito, giusto? No, ha detto che Fabrizio lo farà. Adesso non è che possiamo accollare tutto a me, va bene sei nell'anima, quello lo faccio volentieri, che c'era Danilo, ma Garfield è missione gustosa, cioè. Il primo maggio è uscito, invece, anche Sei Fratelli, che nell'insieme, direi che si piazza asseridamente al secondo posto, dopo The Fall Guy. Ebbè sì, è prodotto anche da una importantissima casa di produzione che amiamo molto, che è Groenlandia. Insieme a Rai Cinema, film italiano, come produttore c'è Matteo Rovere, che ben conosciamo, alla regia c'è Simone Godano, che scrive anche la sceneggiatura, insieme a Luca Ninfascelli. Dura 103 minuti, di cosa tratta? Sei fratelli, che si riuniscono dopo la morte del padre Manfredi Ali. No, sono cinque fratelli che si riuniscono e poi scoprono che hanno una sorella bonus che è la sesta fratella. Ok, teniamo questa versione. Nel trailer, la cosa che più mi ha catturato l'attenzione è che giocano a laser tag. Cioè, di tutto il trailer, l'unica cosa che ti è rimasto in me. E poi si pestano. Si pestano, due cominciano a limonare e fanno sesso a quanto pare dopo un po' di anni. Il trailer si chiude con questo vaffanculo finale, interrotto dalla porta che si chiude. Il papà, nota importante, la causa scatenante della riunione di questi cinque fratelli più una fratella bonus, è interpretato dal carissimo Gioele Dix. Gioele, sei invitato dal podcast in qualsiasi momento. Gli altri membri del cast, capitanati da Riccardo Scamarch nel ruolo di Marco, sono Valentina Bellè, Adriano Giannini, Gabriel Montesi, Linda Caridi, Ima Villa, Antonella Ponziani e Axel Galois. Devo dire che il trailer mi è piaciuto, ha fatto lo stesso effetto anche a voi? Mi ha fatto l'effetto di un film molto italiano, come direbbe Stanis. Ci sono subito le atmosfere, questa riunione di famiglia, con i fratelli, i problemi che emergono, i segreti che emergono. Quindi, in linea di massima, posso dire che mi incuriosisce. Poi, spero che non sia una palla al piede. Aldo? Per me vale lo stesso discorso che ha detto Fabio, nel senso che dal trailer si percepisce proprio l'ambientazione tipica italiana della festa del Grazia. Diciamo che tra i tre probabilmente quello che guarderei, però non penso che andrò al cinema spaccandomi le gambe dalla felicità. Tipico qua a Brescia, spaccarsi le gambe dalla felicità, tra l'altro. Vedendo la felicità di Aldo posso capire che nessuno si spezza le gambe dalla felicità a Brescia. Per quello che non sono felice è per prevenire il rischio di dovermi rompere le gambe. Ora tutto torna. Perfetto, grazie. Se venite a Brescia non sorridete, se no è un casino. E questo era per il primo maggio. Il giorno dopo sono usciti non al cinema, ma bensì su Netflix, Prime Video e Paramount Plus altri tre film piuttosto interessanti tutti e tre. Partirei da quello di cui abbiamo già parlato nella Treber 27 quando abbiamo avuto l'opportunità di intervistare Danilo Kotov che ha recitato nel nuovo film di Netflix intitolato Sei nell'anima Biopic incentrato sulla vita di Gianna Nannini tratto dal libro autobiografico di Gianna intitolato Aldo, vuoi dirlo tu? Cazzi miei. Vabbè dai, dicelo Aldo, cioè far così adesso. No, 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 si intitola Cazzi miei adesso non è che se sono libretti non sono simpatico. Primo in tutte le librerie dal 2016 al 2017 quando è uscito Cazzi miei. Volete correre a comprarlo potete comprare una copia su Amazon se volete. Il titolo Sei nell'anima non è stato mantenuto nelle versioni internazionali. Si chiama My Dicks. No. Si chiama Beautiful Rebel. Questa è la prima volta che ci troviamo nella situazione inversa ovvero quando un titolo italiano viene tradotto in maniera discutibile all'estero. Beh, probabilmente è Netflix che l'ha presentato così perché essendo una canzone che ha avuto successo solo in Italia magari in Germania dicono ma che cazzo è Sei nell'anima. E invece io questo lo contesto perché intanto non è un film che penso abbia molta pilla all'estero visto che è su una cantante italiana. Ci sarà qualche paese in cui la Nannini è diventata famosa cioè se Albano può essere famosa in Russia non vedo perché la Nannini non possa essere famosa in qualche altra nazione europea. Ok, però all'estero il titolo delle canzoni di Albano sono tenute in italiano. No, no, ma io sono d'accordo con te in realtà. Aldo Succa Non è che oh Dio santo perché cioè se tu fai di che vivi in modo conflittuale questa cosa che devi per forza avere qualcuno che ti dà ragione. Ora vivo meglio però dopo che Fabrizio è mia seconda vivo meglio. Sì, sì intanto basta che vi ricordo com'è andata con Empire dopo ne parliamo. No amici non litigate. Ci spostiamo su Prime Video dove esce The Idea of You tratto dall'omonimo libro scritto da Robin Lee sceneggiatura firmata Jennifer Westfield che ha per patronista Anne Hathaway e Nicholas Galitzin e questo è il primo dei due titoli in cui Anne Hathaway è protagonista in questo mese. Molto probabilmente sentitevi liberi di dire che ho sbagliato secondo me questo non è un film per noi tre è un film per un pubblico femminile. Questo qua è un film che ha sicuramente un determinato target non necessariamente femminile però capisco quello che dice Fede per la questione della relazione con la pop star questa cosa quasi adolescenziale nel concept e allora sì capisco quello che dice Visto che citavo la cosa della pop star che non siamo noi ovviamente il pubblico di riferimento mi è venuto in mente che facendo un paragone potrebbe ricordare un Sognando Beckham che nei primi anni 2000 aveva creato quella mitologia intorno al calciatore più di quello che dopo effettivamente è stato e tra l'altro ho appena scoperto che Sognando Beckham è stato il primo film occidentale a essere trasmesso in Nord Corea quindi mi sento di chiedere scusa a tutto il pubblico della Corea non è che devono propinarci tutta la loro merda perché non li abbiamo portato Sognando Beckham basta abbiamo fatto una cazzata nel 2002 a posto così c'è un po' di rancore dopo 20 anni anche meno cioè basta adesso ma questo di idea of you a livello di critica di votazioni visto che adesso stiamo registrando è già uscito IGN quanto gli dà? fermi tutti perché IGN Italia ha dato sette e mezzo con il titolo discreto una romcom graziosa intelligente non si sdegna mai non lo so se fidarmi di questa recensione Fede ti dico la verità magari sarà che non siamo il pubblico ma il trailer non riserva delle grandi sorprese mi sento di contestualizzare la persona che ha scritto questa recensione ha dato nove a May December quindi Aldo cosa vuol dire? non capisco ha dato anche quattro e mezzo al colore viola che io personalmente avrei dato anche due però ecco non so ha dato nove a Priscilla esagerato nove però è un bel film Priscilla ma di cosa parla di Idea of You? Fabri l'ha già leggermente accennato Anne Hathaway che interpreta un personaggio chiamato Solène va a un concerto al Coachella e in qualche modo finisce nella stessa stanza del cantante di un gruppo chiamato Hayes interpretato da Nicolas Galzin che avete sicuramente visto in Cenerentola Handsome Devil sicuramente rosso, bianco e sangue blu che su Amazon Prime è stato un successo l'anno scorso quando ho visto il trailer mi è venuto subito in mente in realtà un altro attore infatti ero un attimo in dubbio all'inizio che è Harris Dickinson che è quello che abbiamo visto di recente in A Murder at the End of the World praticamente i due hanno una specie di colpo di fulmine ma c'è una bella differenza d'età tra i due protagonisti infatti il cantante o comunque l'attore che interpreta il cantante ha 29 anni mentre Anne Hathaway ne ha 41 posso dire però che se la scelta era quella di mettere Anne Hathaway per far vedere una donna matura più vecchia rispetto al ragazzino hanno fallito in pieno perché Anne Hathaway sembra che abbia 23 anni sembra più giovane di me ma di molto e tra l'altro nell'altro film di cui poi discuteremo dopo invece è un pochettino più invecchiata e sembrava comunque una giovane con la parrucca non riesci a farla diventare vecchia quella lì chiudendo la storia siccome il cantante è famoso il fatto che abbia una storia con una donna più matura genera scalpore si intervede anche un titolo con la scritta Cougar Anne Hathaway è contenta è contentissima di questo titolo tu lo recensirai e hai detto quindi aspetto di vedere più o meno il tuo parere sul film no ma è la classica commedia romantica è arrivato il momento in cui Federico ci dà la sceneggiatura del film senza averlo visto prego hai 10 secondi per esporci tutto come va a finire dai dobbiamo anche fare un check prossimamente vedere tutte le volte che è già stata questa previsione se effettivamente si è avverata oppure sono tutte cose a caso tipo il pendolino di mosca ecco questo è il momento pendolino di Federico vai allora dopo aver visto il trailer posso dire con una certa sicurezza che la relazione tra i due viene compromessa dai tabloid provano a stare insieme ma alla fine lui capisce che lei è troppo più vecchia di lui e quindi rimangono amici ma si separano ultima pellicola uscita invece su Paramount Plus il 2 maggio si chiama Blackberry ma attenzione perché è uscita su Paramount Plus il 2 maggio ma in realtà la pellicola risale un anno fa per esempio in Canada è uscito il 12 maggio 2023 è passato in sordina non ce ne eravamo accorti l'anno scorso che questo film fosse uscito e mi sento di additare la colpa al fatto che sia un film canadese con attori principalmente canadesi e pertanto la compagine americana che di solito promuove i film anche di merda in ogni modo visto che era un film canadese non ha ricevuto lo stesso trattamento finché mi sento di dire dal momento che l'ho visto gran bel film una sorpresa positiva io sono anche un fan dei film a sfondo aziendale l'ultimo sono una start-up che cresce come cambiano i protagonisti una volta che diventano famosi le difficoltà che hanno comunque nel far crescere la start-up un tuo film preferito The Social Network The Social Network bello devo dire il fatto che Fincher stia scrivendo la sceneggiatura del secondo preoccupante Fabrizio tu l'hai visto? sì l'ho visto anch'io sono d'accordo perché è un bel film io non sono come te fan sfegatato di questa tipologia di film ma questo qua ha anche una vena comedy ogni tanto esce fuori e secondo me rende il film molto più scorrevole anche più godibile per chiunque e la storia è una cosa incredibile il fatto di quanto un prodotto possa diventare obsoleto da un giorno all'altro a causa di un'invenzione che rivoluziona completamente il mercato è impensabile una cosa del genere ti ritrovi da essere al top al niente e sono riusciti a raccontare una storia vera molto interessante in un modo anche divertente comunque godibile quindi si è consigliato come Blackberry è accaduto anche a Nokia per esempio e Kodak tutte le pellicole le macchine fotografiche è venuto fuori l'iPhone il cellulare con fotocamere comunque a disposizione di tutti quindi nessuno si è più andato a comprare macchine fotografiche possiamo parlare del cast citiamo soltanto Jay Baruchel che tutti e tre penso l'abbiamo visto in Man Seeking Woman e invece Glenn Overton ovviamente a me è adesso volto noto ma semplicemente perché ho visto It's All We Sun in Philadelphia che è il suo ruolo più importante alla fine te lo ricordi da lì lui bisogna citare anche Matt Johnson che nella pellicola interpreta Doug Fragin cofondatore di Blackberry perché Matt Johnson è attore nella pellicola ma ha anche scritto la sceneggiatura insieme a Matthew Miller che produce il film e l'ha anche diretto quindi triplice ruolo di Matt Johnson che onestamente è uno dei pochi personaggi che nel film mi ha infastidito per via di questa fascetta nei capelli stile anni 80 spugnosa che indossa costantemente anche quando Blackberry diventa la compagnia molto corporate ovviamente non l'abbiamo detto è una storia vera ma è tratta anche questa da un libro e te pareva il libro ha il titolo lungo di sempre si chiama Losing the Signal due punti The Untold Story Behind the Extraordinary Rise and Spectacular Fall of Blackberry il 3 maggio Netflix ha rilasciato un'altra pellicola chiamata Unfrosted con i due migliori amici di Fabrizio Einfield sicuramente sarà uno e Amy Schumer esatto insieme sì 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 infatti questo film sono interessatissimo perché ha un cast della Madonna dal primo all'ultimo non c'è un nome che non sia un gran nome e alla fine dal trailer sembra divertente quindi boh a valutazione o scene eh vabbè però devo vederlo io prima di poter confermare perché il trailer onestamente non è male poi ve l'ho detto magari è per Amy Schumer tutti quanti avranno la stessa cosa mia hanno visto sto film e hanno detto vabbè non lo so Melissa McCarthy no invece ma non meno cioè sì capisco quello che mi vuoi dire però non mi ha dato fastidio in questo trailer quindi secondo me potrebbe essere nel complesso un bel film tornando nel mondo delle serie tv citiamo anche che ci sono John Slattery e John M che fanno Roger Sterling e Donald Draper direttamente da Mad Men che fanno la comparsata Cameo e fanno i loro due personaggi di Mad Men è una bella chicca è una bella chicca direi ci sono anche un paio di momenti che non capisco perché siano inserite all'interno del film uno in particolare quando c'è una bambina attaccata a un veicolo in corsa che prende di forza l'autista che è un adulto e lo trascina fuori dalla macchina in corsa questo non mi è ben chiaro come sia possibile e poi ci sono anche altre scene che non mi sono state spiegate a dover nel trailer ma c'è un putpuri di roba che non so se sarà una puttanata per tutto ciò oppure sarà qualcosa di effettivamente divertente e brillante quindi devo vederlo è l'unico modo c'è un gran casco comunque perché c'è Peter Dinklage c'è Christian Slater c'è chiunque c'è Hugh Grant c'è Sebastian Maniscalco che è un grandissimo nome non l'ho mai sentito ma meritava di essere citato ma scusami c'è anche Max Greenfield direttamente a New Girl chi cazzo è Jim Gaffigan Jim Gaffigan è uno stand up comedian che solitamente parla di cibo principalmente parlava di cibo nel suo repertorio era una comicità molto per famiglie perché non c'era quasi per niente volgarità si facevano risate grasse sì esatto tra l'altro aveva fatto uno show che mi pare si chiamasse proprio Jim Gaffigan show qualcosa del genere che era una sorta di lui di Louis C.K riferito però a Jim Gaffigan e però non era allo stesso livello era più una comedy classica però dove si seguiva effettivamente la sua vita di Jim Gaffigan persona dietro al comico colazione pranzo cena e merenda anche nel mezzo c'è anche Fred Armisen che l'ho visto anche nel trailer che come al solito farà tipo 20 secondi e poi scompare c'è Dean Norris direttamente da Breaking Bad c'è Tony Hale piccola chicca collegandomi a Breaking Bad che aveva nominato adesso Fabrizio nell'ultima puntata di Grey's Anatomy Tuco Salamanca fa la guest star fa la parte del carcerato che poverino ha un cancro terminale deve essere curato e ovviamente non lo curano lo lasciano morire in carcere però compare nell'ultima puntata di Grey's Anatomy quindi grande app nella carriera cinematografica e seriale immaginavo che non facesse come parte l'aiuto chirurgo non ce lo vedo molto con quella faccia lì dopo tutta questa carrellata di attori non abbiamo ancora detto di cosa parla la pellicola che in Italia arriva ovviamente con un sottotitolo perché non poteva essere chiamata semplicemente unfrosted che bisognava spiegare come al solito al popolo italiano di cosa si parla e arriva col titolo unfrosted due punti storia di uno snack americano la trama è la seguente siamo nel Michigan 1963 e la Kellogg's e un'altra compagnia chiamata Post che penso nessuno conosca in Italia sono acerimi nemici sono le classiche aziende che compagnano nello stesso mercato in questo caso quello dei cereali e fanno una gara per creare un nuovo tipo di biscotto che tendenzialmente deve andare a occupare negli scaffali e nelle tavole americane il ruolo principale quando si fa colazione negli anni 60 siamo in quel periodo storico in cui negli Stati Uniti sono tutti quanti ammorbati da spot pubblicitari dove si beve il latte il latte è buono il latte fa di tutto e quindi ci sono i cereali e c'è questo mercato crescente dove la colazione diventa il pasto primario della giornata negli Stati Uniti dopo il McDonald's penso che lo guarderò questo film a tempo perso quindi più avanti non a ridosso dell'uscita infatti non l'ho ancora visto tra uno Slenderman 2 e uno Slenderman 3 esattamente lì se lo dovessero fare Slenderman 2 lo guarderei no più che altro il mio grande dubbio è relativo a Netflix perché il cast è di primo livello come diceva anche prima Fabrizio ma il problema è Netflix cioè per me questa è una grande red flag perché il problema è Netflix? Netflix lo distribuisce e basta lo distribuisce e basta non ha avuto mano la produzione no lo distribuisce e basta la produzione è in mano alla Columbus 81 Productions che è quella di Jerry Seinfeld infatti Jerry Seinfeld dirige scrive produce e interpreta qualsiasi cosa si possa interpretare in Unfrosted quindi è tutto suo è il primo film di Jerry Seinfeld che non fa Jerry Seinfeld sì vero ecco per esempio una cosa su cui non andiamo d'accordo ma Jerry Seinfeld piace a Fabrizio invece no quindi ma è soltanto a livello umano niente da dire non che mi fa schifo come attore una merda no no al mio è proprio un odio perché l'ho visto un po' di interviste un po' di cose e mi sembra un po' una faccia di merda non ho altri termini che riescano a spiegare bene quello che intendo Seinfeld la serie me la guarderò prima o poi bellissima non dico nulla a livello di attore proprio l'ho visto un po' di volte interviste a parlare e mi sembra un po' una faccia di merda quindi così a pelle non lo inviterei per una birra ecco l'8 maggio è uscito al cinema il quarto sequel intitolato Il regno del pianeta delle scimmie che adesso Aldo ci presenterà questo ne parlo molto volentieri perché lo andrò a vedere proprio questa sera perché ci tenevo a vederlo è l'unico film di maggio che mi sono segnato da tempo come uscita cinematografica importante ad aprile c'erano Challengers e Civil War ma Civil War me l'ha bocciato totalmente Federico quindi ho detto no risparmiamo i soldi no 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 qualcuno mi ha detto fa cagare non guardarlo non ho utilizzato questa parola i messaggi l'ho recensito ho dato save purtroppo non è stato all'altezza delle aspettative e del trailer comunque detto ciò ho buone aspettative per questo Il regno del pianeta delle scimmie perché è un sequel ed è il quarto capitolo del nuovo ciclo che era partito relativo al pianeta delle scimmie per l'appunto di una nuova trilogia sì teoricamente dovrebbe essere vediamo come va perché dopo il problema sta sempre in quanto cazzo in cassa penso che farà un sacco di soldi questo non ci metto la mano sul fuoco ma sono abbastanza sicuro dovrebbe essere l'apertura di una nuova trilogia e per me hanno dato il là a un ciclo che sta funzionando dopo aver ignorato alcuni dei capitoli precedenti soprattutto quello di Tim Burton del 2001 sono riusciti a dare il là a una trilogia cominciata nel 2011 questo quarto capitolo che se funziona quindi darà là a una nuova trilogia speriamo che riesca a approfondire ulteriormente quello che è stato raccontato in The War quindi il film del 2017 io le aspettative le ho abbastanza alte probabilmente a voi non vi interessano i film di questa tipologia perché ne avevamo già parlato perché le scimmie non sono un argomento che condividete però a me è piaciuto molto ecco per riprendere quello che hai detto prima questo è un altro punto in cui noi ci scontriamo perché io le storie sugli scimpanzè proprio non riesco a digerirle ho visto il primo soltanto del pianeta delle scimmie e basta perché non è proprio il mio è una cosa che non riesco a vedere con gli occhi giusti con cui dovrei guardarla e quindi mi sembra tutto più ridicolo di quello che in realtà è perché poi alla fine è una storia seria ma io non riesco però a farmi trasportare da gli scimpanzè doppiati in CGI non ce la faccio scusate gli amanti del pianeta delle scimmie all'ascolto si metteranno le mani nei capelli si metteranno le mani tra i peli eccala Federico fermiamoci qua no allora di film del pianeta delle scimmie non avevo visto niente fino a gennaio di quest'anno gennaio di quest'anno ho tirato fuori tutti e nove i film che compongono tutta la saga quindi ci sono visti uno alla volta da gennaio fino a febbraio ci ho messo un mesettino forse di meno e ce ne sono alcuni che fanno veramente cagare quello è senza ombra di dubbio uno per l'appunto è quello di Tim Burton però vabbè quello del 2001 ma ovviamente anche quelli prima degli anni 70 ce ne sono alcuni che facevano veramente schifo tralasciamo anche gli effetti speciali perché è peggio che peggio la nuova trilogia quindi fin dal 2011 2014 2017 sono veramente belli cioè questo io mi sento di dire che anche a livello di sceneggiatura hanno lavorato molto bene e per me sono dei bei film ovviamente non stiamo parlando del mamma mia che super saga che stanno mettendo in piedi però è un bel film di intrattenimento posso dire che mi sono piaciuti tre film precedenti però sono anche arrivato a un momento di stanca e non ho bisogno di un'altra trilogia questo è un po' il motivo per cui per esempio io non credo andrò al cinema a vedere questo film quando arriverà in formato streaming eccetera magari gli do un occhio ma non ci sto morrendo dietro per me sono dei bei film invece tutto sommato cioè nel senso che stanno ampliando molto quello che è tutto il problema della razza umana quindi malattie eccetera e poi questo non attaccamento ai personaggi per me dà una mano a dare nuova linfa vitale a quello che è la storia parlando invece di un altro film in uscita il 9 maggio si chiama Mother's Instinct devo dire che sono sorpreso dal fatto che questo per esempio non abbia ricevuto nessun titolo diverso in italiano si chiama Istinto Materno? no si chiama Mother's Instinct ah non l'hanno neanche tradotto? no questo non l'hanno tradotto lanciano una monetina testa croce croce non lo traduciamo ecco ragazzi pensiamoci seriamente a cercare un titolista e invitarlo come ospite e farci spiegare quali sono le dinamiche che portano a un cambiamento magari completamente radicale del titolo o all'aggiunta del solito inciso dopo il trattino contattateci perché non ho idea di come si faccia a rintracciare un titolista di film chi è che è il titolista figura eterea sì ma il titolista che inviteremo lo chiameremo in maniera diversa ci metteremo un inciso dopo il trattino il titolista mettiamo il nome il titolista comunque di cosa parla Mother's Instinct siamo negli Stati Uniti intorno agli anni 60 quindi rimaniamo in territorio unfrosted ma molto più drammatico e i due protagoniste sono Jessica Chastain che intervita Alice e Anne Hathaway che intervita Celine queste sono le due madri protagoniste della pellicola e questo è infatti il secondo film del mese con Anne Hathaway lascia Fabrizio Loner di proseguire il resto della trama va bene ti dico soltanto quello che anch'io ho più o meno capito dal trailer innanzitutto esordisco dicendo che Jessica Chastain è una dea e quindi per me questo film andrà visto in ogni caso nonostante si preannunci un film molto pesante a livello emotivo e cosa molto importante che volevo dire è che non so se lo sapete ma Jessica Chastain ha 47 anni sembra una ventenne è una cosa incredibile e tra l'altro insieme a Anne Hathaway che è l'altra celebre per non essere in grado di invecchiare ma tornando alla trama abbiamo queste due madri single che passano del tempo insieme anche i loro figli passano del tempo insieme e un giorno una delle due quella interpretata da Jessica Chastain quindi Alice vede il figlio di Céline sul balcone in procinto di cadere di sotto preoccupata si lancia su per le scale quando arriva però purtroppo è troppo tardi e nell'immagine del trailer si capisce che Anne Hathaway Céline nell'arrivare non capisce cosa stia succedendo e una volta che ha guardato negli occhi la sua amica in poche parole comprende che di lì a poco avrebbe scoperto il cadavere di suo figlio e parte in lacrime da lì il rapporto fra le due si incrina a causa di questo rancore che poi Céline nutre nei confronti di Alice reputandola colpevole in qualche modo per non essere intervenuta in tempo per salvare la vita di suo figlio poco più avanti comincia ad emergere questo quanto meno ambiguo rapporto tra Céline a Nathaway con il figlio della sua amica che dovrebbe probabilmente portarci a pensare che riserverà al figlio dell'amica lo stesso destino di suo figlio quindi ci sarà anche un po' una componente thriller in alcune parti potrebbe essere un film visibilmente drama che tra l'altro se non lo guardassimo adesso perché non vogliamo guardarlo secondo me ce lo ritroveremmo comunque ad un certo punto da dover recuperare per qualche premio mi puzza di film con possibili nomination soprattutto per le due attrici protagoniste a tal proposito interrompo per dire che stando alle votazioni su Rotten Tomatoes di MDB le votazioni non sono le più primettenti si aggirano tra il 5 e mezzo e il 6 ci darò a dire comunque questo non è un film originale è un remake di un film del 2018 belga dal titolo omonimo ma che in Italia ovviamente è arrivato con un nome diverso che è Doppio Sospetto e che è a sua volta tratto da un libro che non è chiamato né Doppio Sospetto né Mother's Instinct ma è intitolato Behind the Hatred che significa Dietro l'Odio che in Italia invece il romanzo è arrivato con il titolo Oltre la Siepe quindi abbiamo 27 titoli diversi per la stessa trama il romanzo è del 2012 mi ricorda in maniera meno tragica la serie tv The Slap dove c'era il figlio di un vicino che veniva schiaffeggiato da un padre che non era suo e da qui nascevano ovviamente una serie di controversie e di conseguenze tra le coppie e gli amici non so a me il trailer ha rispirato molto nonostante la tragicità e ovviamente si fonda sulle due attrici principali ma vorrei sapere Aldo a te che effetto ha fatto se sei interessato penso che lo recupererò ma ne sarò forzato più avanti quando usciranno i badge di qualcosa probabilmente come diceva Fabrizio verrà candidato in qualcosa agli Oscar cioè non mi dà l'impressione di un film della Madonna probabilmente lo guarderò ma lo guarderò anche questo come Unfrosted più avanti non ho così tanta fretta di guardarlo però ecco ripeto tra tutti quelli che abbiamo detto ad ora a parte ovviamente il regno del pianeta delle scimmie io mi sono segnato questo come possibile recupero ai Blackberry e basta e questo vuol dire tanto amici ascoltatori sì però questo non è detto dopo se non compare da nessuna parte è col cazzo che lo guardo certo ci auguriamo che agli Oscar lo candidano eh che palle migliori costumi sì vabbè allora non lo metteranno come badge sui MTP ti pare salto in avanti di una settimana al 16 maggio escono due film uno l'abbiamo già discusso nella prima puntata dell'anno i nuovi film e serie e le nostre scommesse che si chiama If sfortunatamente anche qua i titolisti hanno fatto il loro sporco dovere e ci hanno aggiunto un gli amici immaginari questa è la pellicola con Ryan Reynolds protagonista però scritta prodotta diretta da John Krasinski e ha anche una parte nel cast le musiche per la felicità di Aldo sono di Michael Giacchino che è l'unica cosa interessante di questo film per me non è assolutamente vero chiedi scusa l'altra cosa interessante per te è che nel cast c'è anche Phoebe Waller-Bridge mi fa piacere chiedi scusa adesso no perché devo chiederti scusa prima e questo è l'altro classico film dove c'è uno stuolo infinito di guest star che ovviamente prestano le voci perché si tratta di amici immaginari quindi molto cartuneschi che fanno parte della pellicola quindi c'è Steve Carell l'ha già citata Phoebe Waller-Bridge c'è Christopher Meloni ma soprattutto Fede chi è che c'è? c'è Amy Schumer no ma soprattutto c'è Matt Damon esatto c'è anche George Clooney c'è anche Sam Rockwell e chi è che c'è sotto Sam Rockwell Fede? c'è Sebastian pazzesco questo non l'avevo visto c'è di nuovo attenzione Sebastian Maniscalco incredibile messo là al pari di Blake Lively George Clooney Matthew Rice Emily Blatt Bradley Cooper Vince Vogue e tra l'altro Ez Magician Mouse quindi fa pure un topo mago pazzesco l'altra pellicola dal Tony completamente diversi in uscita allo stesso giorno sempre al cinema si chiama Abigail gentilmente non tradotta dai titolisti è rimasto Abigail perché è un film liberamente ispirato dalla pellicola La figlia di Dracula del 1936 dal trailer si potrà notare che c'è una presenza familiare per i fan di Euphoria infatti questa è l'ultima apparizione sullo schermo di Angus Cloud di cosa parla? piccolo spoiler un gruppo di rapitori viene ingaggiato per rapire una bambina se non che entrano nella casa e partono tutti i sistemi di allarme in realtà diventa una trappola perché la bambina gli ha pagato il lavoro perché vuole divertirsi e vuole ucciderli tutti succhiandogli il sangue e poi spaccandogli la testa questa è più o meno la trama interessante il film tra i nomi famosi presenti nella pellicola c'è Giancarlo Esposito il già citato Angus Cloud e per i fan di Legion Dan Stevens chi se ne frega c'è Kevin Durand è Martin Kimi in Lost mi fa molto piacere mamma mia non sai proprio di niente ma se tu avessi visto Legion capiresti che Dan Stevens Legion l'ha abbandonato dopo due stagioni perché mi faceva cagare non capisce assolutamente niente Fabrizio può confermare e Legion bisogna guardarselo con i video di quelli che ti spiegano le cose che accadono e ora te lo apprezzi molto di più poi sono tre stagioni quindi avevo proprio un tizio che ogni settimana mi faceva il resoconto di tutto quello che succedeva che non stavo cogliendo perché alcune cose erano fatte anche per chi conosceva il fumetto era no molto bello visivamente è allucinante Aldo volevo solo farti notare che questo è il terzo tema di oggi in cui tu e Fabrizio siete di disaccordo no volevo solo dirlo stiamo buttando fuori tutto oggi in una volta sola così poi siamo a posto esatto e secondo me il prossimo film in uscita il 23 maggio avrete la stessa opinione perché stiamo parlando di Il Vangelo secondo Magia un bel film per me trailer quantomeno bizzarro vorrei dire non ho capito le intenzioni è l'umidità è l'umidità non ho capito se c'erano delle intenzioni comiche dietro ad alcune delle battute e soprattutto la scena dove c'è Gasman e la Porcaroli con un bastone in mano non lo so cosa stessero facendo allenandosi per il Jiu Jitsu ecco non ho capito bene dove cazzo voglio andare a parare sto Vangelo secondo Maria poi tra l'altro sembra anche un po' fatto come gli occhi sacri del cuore di Gesù volevo dirtelo meglio perché arriva in tempi sospetti questo adattamento anche un po' strano infatti quando ho detto la cosa dell'umidità ho detto ma vuoi vedere che invece è una cazzata una commedia che me l'hanno fatta montare come se fosse invece poi è una roba alla Boris con Stannis come Gesù Cristo una roba che sembra perculare tutta la storia del Vangelo quando c'è Gasman che compane in scena e l'altro che ha appena finito di dar contro Yahweh perché sono ebrei giustamente e si scusa e lui gli dice no è l'umidità ma chi è che ha fatto i dialoghi perché se poi è davvero una cosa seria quindi un film drammatico chi è che ha fatto i dialoghi di questa roba qua sono i dialoghisti di Libeccio più che altro chi ha fatto il trailer gli hanno dato un po' di scene ha preso la parte migliore esatto eh questa cosa è preoccupante cioè io non so come presentarlo a un film del genere cioè è un film che parla della storia di Maria sarà Giuseppe lui sì lui è Giuseppe lui Giuseppe Beppe Beppe Gasman intanto bisogna dire che Vangelo secondo Maria è tratto dall'omonimo libro l'omonimo romanzo di Barbara Alberti quindi non è una sceneggiatura originale la regia è di Paolo Zucca che insieme alla stessa Barbara Alberti e Amedeo Pagani hanno scritto la sceneggiatura eh si vede tutto eh quella roba qua ci terrei a citare le case di produzioni perché ne vale la pena la prima si chiama La Luna non l'ho mai sentita la seconda la Indigo Film che invece ho sentito la Vision Distribution e Sky tutto questo con il contributo di chi? con il contributo del Ministero della Cultura sovvenzionato pesantemente dalle lemosine ricevute dal Vaticano che aveva bisogno di rimpolpare un po' i fedeli e con il sostegno della Regione Sardegna e Fondazione Sardegna Film Commission perché Aldo qua te lo devo dire hai girato in Sardegna eh sì guarda immaginavo eh l'unica regione in Italia che poteva assomigliare quantomeno come conformazione al deserto era la Sardegna quindi vabbè non mi stupisco troppo Sicilia Guglia no ci assomiglia un po' di più cioè ci può stare capisco la scelta della regione mi fa più specie la scelta di Fortunato Cerlino di apparire come sacerdote in una produzione di questo tipo anche Fortunato Cerlino avrà da pagare i suoi mutui immagino a questo punto perché sennò è un problema di tutti poteva apparire là oppure poteva apparire nell'altra pellicola in uscita dello stesso giorno che è Furiosa a Mad Max Saga anche questa girata in Sardegna non penso no non è vero cazzata Furiosa tu sei e mi stanno girata in Australia quindi fammi l'accento australiano adesso lo sto dicendo che è tipo mate you are furiosa mate ma non lo so com'è in australiano perfetto è perfetto forse era un altro però avevo rimosso che Fortunato Cerlino era anche in The Palace bene mi aveva di mutui a pagare questo povero qui vabbè comunque comunque spin off prequel ambientato tra i 15 e i 20 anni prima di Mad Max Fury Road scritto e diretto da George Miller basato ovviamente sui suoi personaggi per protagonista a Anya Taylor-Joy nel caso non abbiate visto il trailer che sono praticamente ovunque e ovviamente nel trailer c'è anche Chris Hemsworth nei panni di Warlord Dementus nome fantastico che dire si presenta da solo praticamente questa pellicola consiglierei di andare a vedere di guardare Mad Max Fury Road e se vi è piaciuto poi ovviamente c'è questo e beh ci sono anche i film prima degli anni 70-80 sì ma quelli diciamo come no scusami no 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 quelli sì ma dico non è che se adesso devi andare a vedere Kings of the Planet of the Apes vai a vedere tutti i film fatti negli anni 50-60 no ho capito è la stessa cosa eh no perché questi hanno un'interconnessione l'uno con l'altro quelli del Pianeta delle Scimmie sono reboot o comunque film a sé stanti per una persona che è interessata consigliamo la visione anche dei film degli anni 70-80 che poi sono tre film che stanno dicendo recuperare 60 e dove li trovano Aldo? dove li trovano? beh probabilmente trovate i dividi da noleggiare se ci sono ancora da blockbuster no c'è più allora andate su questo sito che vi lasciamo in descrizione che si chiama streaming punto no non si fa il 24 maggio escono altre due pellicole su Netflix ottimo top uno di cui Aldo si è rifiutato addirittura di guardare il trailer e l'altro con Jennifer Lopez guarda nel secondo quindi di Atlas che è quello con Jennifer Lopez ho visto 20 secondi e ho raggiunto la conclusione che ti ho detto off screen che dopo quando ne parliamo ti riespongo ora idem non conosco questa reazione ma è sicuramente la stessa che ho avuto io dopo 20 secondi ma perché sto guardando un trailer con Jennifer Lopez questa è stata la mia reazione dopo 20 secondi quello è stato il secondo pensiero quando l'ho vista in scena ma questo qua è quello con Jennifer Lopez allora l'ho chiuso Federico però se vuoi parlaci di My Honey Girl che vuol dire la mia ragazza cipolla giusto? no 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 ok demone è una cosa di questo genere Horny Oni My Horny Girl ah ok ah scusi stiamo guardando i Brothers non è un Entai? no non è un Entai mi spiace ah ok oh guarda che quanti bei nomi tutti da te ci puoi dire anche chi fa le voci dai forza allora partiamo dal titolo originale dici come è il titolo originale questo è però giapponese non è coreano e quindi è accento diverso allora il titolo originale è suki demo kirai nama na amanojaku eh eh all'inizio è ripartito bene sembrava quasi che non fosse un'imitazione razzista poi invece siamo finiti sempre dove andiamo di solito però l'inizio non male grazie mi sto allenando ma sono più bravo sul coreano comunque da tutto questo lunghissimo titolo in realtà viene fuori solo my oni girl è il quarto lungometraggio dello studio colorido con la D di domodossola è una storia fantasy che si svolge tra un ragazzo umano e una ragazza oni cioè un demone è diretto da tomotaka shibayama e questa cosa proprio dell'avere l'orientale nella voce non ci riesci però ok che ha lavorato per lo studio Ghibli quindi questo è un buon background adesso ho la tua attenzione Aldo assolutamente no perché non mette un cazzo neanche sullo studio Ghibli era solo un ah quelle lì di cortesia che sti dicono esatto ah mica cazzi qua ma quindi di che cosa parla questo film è interessante per me secondo te secondo me no però potrebbe stuzzicare l'appetito di Fabrizio non lo so non mi ha convinto tanto Fabrizio è un depravato no Fabrizio è un depravato qui piacciono le bambine e i mostri e queste cose qua no 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 non mi ha sinceramente colpito tanto questo trailer cioè pensi che Fabrizio abbia apprezzato prodotti come Elf and Lead in cui questo demone uccide tutti e dopo cerca di entrare nei rapporti con delle persone umane che hanno questa strana mania in Giappone comunque si sono un po' fissate sui demoni si i rapporti sessuali tra gente strana tentacoli sempre con le tette enormi e culi belli poi si ecco no dal trailer non ci sono tette enormi in My Onigirl eh beh mancherebbe il protagonista è uno studente del primo anno del liceo vive nella classica prefettura giapponese distante da tutte e tutti e ha una peculiarità perché è incapace di dire di no quando qualcuno gli chiede qualsiasi cosa un giorno d'estate incontra Tsumugi che è la ragazza Oni che è arrivata nel mondo umano per cercare la madre perduta Tsumugi fa esattamente il contrario del protagonista cioè ovvero fa il cazzo che vuole il protagonista che mi sono dimenticato di dire si chiama i raggi anzi i raggi perché ha due i e una h e da qui partono in viaggio per cercare la madre ma allo stesso tempo sembra che ci sia un altro demone Oni che attacca gli altri esseri umani ma andiamo all'altra pellicola che vale veramente la pena di guardare so che Aldo si è già pronotato per recensirla Atlas assolutamente no zero non ne avevo zero quando ho cominciato la visione del trailer perché mi ero dimenticato di averlo già visto tanto bello esatto l'ho guardato guardati i primi 20 secondi ho detto ma questa qua sembra una brutta copia come ti dicevo prima off screen di The Creator che è il film del 2023 con John David Washington che non ha avuto successo a parte essere candidato agli Oscar per il sonoro se non mi ricordo male che parliamo neanche di sonoro e effetti speciali era stato candidato e a parte quello dopo aver fatto questo pensiero è comparsa Jennifer Lopez ho detto ah ok questo era quello con Jennifer Lopez ho chiuso tutto volete vedere un film più bello guardate The Creator che almeno c'è un minimo di morale o di storia un pelo più profonda se volete guardare qualcosa del genere altrimenti fatevi felici non guardate niente e guardate qualcos'altro direttamente tutto questo è nato da pregiudizio cresciuto durante il trailer film non l'abbiamo ancora visto assolutamente sì confermo non ho visto il film e non lo guarderò per quanto ci sia Sterling K. Brown che per me è un ottimo attore ma non mi avranno mai ma proprio no allora a proposito di Sterling K. Brown il cast non è affatto male a parte Jennifer Lopez dimmene un altro Mark Strong togli lui Lana Paria chi cazzo è lana dai dimmi dai ma come non l'hai mai vista in Once Upon a Time minchia ci stiamo rifacendo a Once Upon a Time davvero certo ma Cristo lei era la regina cattiva vantiamocene vabbè Once Upon a Time aveva comunque il suo seguito però non ha fatto niente per quattro anni ma va bene era piena di soldi e poi li ha finiti l'altro invece che volevo citarti e sento già la bestemmia che arriva è Simu Liu è il protagonista Shang-Chi nel film della Marvel minchia che cazzo di curriculum parlando di pregiudizi Aldo sì sì ma scusami Shang-Chi tu l'hai visto quindi è un bel film l'ho visto ed è carino è un bel film film come un altro di cosa parla Atlas allora Atlas è il nome della protagonista quindi la protagonista interpretata da Jennifer Lopez si chiama Atlas Sheffard brillante ma misantropa data analyst con una profonda sfiducia nell'intelligenza artificiale che si nota bene durante il trailer si unisce durante una missione per catturare un robot rinnegato con cui condivido un misterioso passato quando la situazione precipita mentre sta pilotando un robot che non vuole essere pilotato la sua unica speranza di salvare il futuro dell'umanità è quella di fidarsi di questa intelligenza artificiale per combattere l'altra intelligenza artificiale che ha le sembianze di Simu Liu wow mi sento puzza di monnezza poi non lo so magari praticamente è Pacific Rim però con l'intelligenza artificiale vabbè Jennifer Lopez non lo so ma ha fatto altra roba questa per recitare è già il secondo film o terzo se non sbaglio con Netflix che continuo a non capire perché la mettono come protagonista ma soprattutto secondo me Jennifer Lopez non è brava a recitare ma questa mania delle cantanti tipo Lady Gaga che vogliono recitare cosa vuoi dire? tra l'altro sarà di nuovo protagonista in altri due film che sta girando attualmente uno si chiama Unstoppable wow che arriverà su Prime Video nel cast c'è Bobby Cannavale e Michael Peña e Don Shadow e l'altro si chiama Kiss of the Spider Woman che fortunatamente no 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 ah ok non è legato alla Marvel coioni pure lì che palle no ci sono già svangato tutto con Madame Web quindi penso che altri film su Spider Woman non ne faranno peccato perché c'era Sidney Sweeney a me quella non dispiaceva brava a recitare e nel cast di Kiss of the Spider Woman c'è Diego Luna quindi questo è quanto ci spostiamo poi finalmente con gli ultimi due film che stavolta escono al cinema uno che si chiama IQ The Dumpster Battle IQ che ha un sottotitolo in italiano per far capire di che cosa si sta parlando l'asso del volley perché ovviamente non poteva mancare la specifica italiana neanche della pallavolo del volley pallavolo era lunga quindi l'asso del volley tac lì grandi titolisti quindi se siete fan del manga o dell'anime questo è per voi in alternativa se siete fan di Glenn Powell esce al cinema un film scritto da lui e con lui protagonista si chiama Hitman che i titolisti hanno voluto estendere con Killer per caso vorrei un commento di Fabrizio su questo inciso allora innanzitutto secondo me se una persona legge Hitman Killer per caso la prima cosa che pensa è che è un cazzo di filmetto di merda l'ennesima parodia di sta minchia degli assassini comunque quel Killer per caso è un inciso che secondo me ridicolizza un pochino questa parvenza di serietà che sembrerebbe esserci in questo Hitman non lo so onestamente non è che mi abbia dato tutte queste grandi vibe questo qui è il film che è stato tappezzato di citazioni da recensioni che l'hanno valutato all'interno del trailer e quando succedono queste cose mi sembra sempre una paraculata cioè se non bastano le immagini che hai raccolto per coinvolgere qualcuno e fargli vedere il tuo film allora cosa fai? inizi a prendere tutte le varie affermazioni positive che puoi reperire nelle varie recensioni a te dedicate e sperare di fregare quello che sta guardando con queste promesse di originalità e innovazione e tutte le altre cazzate che scrivo come il Vangelo secondo Maria sì esatto in quello c'erano un sacco di frasi a caso in rosa in paint esatto però quello là sembrava prendersi un po' troppo sul serio mentre questo qui sembra essere una cosa appunto più leggera però in una patina drammatica sembrerebbe cioè non lo so quello che dicevo io prima è che il titolo così sembrerebbe ricordare immediatamente un film comico anni 2000 di questo genere invece secondo me non è così demenziale ci sarà sicuramente qualche nota più comedy ma sembra più un mix un dramedy anche io ho queste speranze perché il regista e co-sceneggiatore è Richard Linklater Riccardo collega dopo regista famosissimo per la trilogia Before Boywood poi vabbè stiamo qua a delencarli tutti quindi io questa cosa non riesco a collegarla a il trailer che ho visto quando ho letto diretto da Richard Linklater ho detto ma cosa cazzo sta facendo questo uomo che potrebbe fare qualcos'altro non so ho molti dubbi però anche un po' di curiosità per capire cosa voleva raccontare con questa romantic action comedy quindi boh un po' sentimentale anche come si può notare dal trailer sì sì per l'amore del cielo però non so c'è Glenn Powell che sta vivendo l'apice della sua carriera perché ha fatto tutti i trenetè film con Sidney Sweeney questa è veramente una comedy sentimentale in inglese il film è chiamato Anyone But You tra l'altro come dicono in inglese I have to come clean mi sento di dovervi dire la verità che l'hai vi guardato l'ho visto l'ho visto vedo il cinema no l'ho visto su Amazon Prime Emma mi ha costretto figato dicono tutti così per guardare le tette di Sidney Sweeney dai ti ha costretto mi ha costretto lei sì sì piaciuto non ho letto la recensione però guarda scrivere una recensione su Anyone But You non so 20 parole bel film no ma soprattutto la cosa che ci interessa interessa soprattutto anche al pubblico ad Emma è piaciuto ad Emma è piaciuto sì ok allora questo è l'importante voglio solo farti uno spoiler di come si conclude tu l'avevi già indovinato prima era il famoso momento pendolino che tu già sapevi come finiva beh sì si capisce ok chiaramente sceneggiatore navigato ormai ma no l'incipit iniziale è anche interessante perché questi due hanno la classica botta e via però c'è un malinteso la mattina dopo quando si svegliano praticamente poi non si sentono più e si odiano fino a quando mi pare che sia la sorella di lei che si sposa con la migliore amica di lui quindi si rincontrano si rincontrano in Australia negli Stati Uniti e loro due questi sono i testimoni nonostante si odino c'è un po' di tensione sessuale ma si odiano e alla fine ovviamente si mettono assieme con Sidney Swinney un momento pendolino si mettono assieme cioè quello chiaro è già il momento pendolino è il momento più bello di questo podcast adesso l'abbiamo creato bisogna crearla questa rubrica però tutto questo preambolo per dirvi il momento clou del film che basta citarlo per dargli la recensione ovvero sono questo fantomatico matrimonio lui ovviamente viene baciato da un'altra ragazza lei lo vede perché a questo punto sono innamorati ma non possono dirselo a che lei scappa dal matrimonio e va via e quindi le insegua aspetta prima si diamo la tipa in questo momento il pendolino non l'aveva previsto e poi cosa fa perché sono su una scogliera lui prende a quanto pare non ci sono macchine in questo posto nonostante sia un matrimonio in cui la gente si butta in acqua e la raggiunge dall'altra parte della costiera prende si lancia dalla costiera lui non ha mai visto che sono scogli sotto comunque stiamo parlando di tipo di 30 metri d'altezza vestito in smoke si getta giù viene salvato da un elicottero dopo che sta quasi per annegare perché lui sa dove lei si troverà e quindi il modo più veloce per raggiungerla visto che lui intanto si era limonato la tipa quindi lei è già andata via da un paio d'ore è l'elicottero è attraverso l'elicottero per dio ma scusami questo cosa cazzo ha preso una macchina straveloce perché l'unico modo per raggiungerla era l'elicottero fatalità l'unico modo per raggiungerla era l'elicottero che ha l'heliporto esattamente dove lui sa che lei sarebbe andata e per dio alla opera house di Sydney ok e quindi la si chiude tutto quanto con un bel limone duro mentre lui corre su per le scale e quanto gli avevano fatto pagare il viaggio in elicottero questi qua tutto gratis è una storia d'amore queste cose qua vengono sovvenzionate dalla gioia delle nuove coppie bravi bravi adesso però pagate sono 20.000 euro scusate la parentesi enorme su tutti tranne te ma questo è quello che ha scatenato il successo di glenn powell che qui è protagonista di hitman ma ricordiamolo sarà protagonista anche di twisters esatto grande sequel chiudendo la parentesi glenn powell e chiudendo anche la parentesi hitman killer per caso la trama è la seguente ovvero glenn powell che qui interpreta Gary Johnson è un timido professore di filosofia di New Orleans che fa consulente informatico part time fino a che a un certo punto la polizia classiche situazioni scritte da Richard Linklater non dire cazzate per contesia chissà cosa hai visto da di Linklater la sceneggiatura è scritta da lui e da glenn powell guarda forse è scritto più glenn powell però vediamo dopo la visione la polizia è costretta a chiedere di impersonare un sicario come parte di un'operazione per un arresto l'arresto va bene e a questo punto Gary ci prende gusto e comincia a interpretare finti sicari cioè praticamente la gente che vuole assoldare un sicario lui si presenta la polizia interviene e viene arrestato fino a quando non arriva l'altra protagonista che è Adria Ariona che interpreta Maddy Glenn Powell ormai ci ha preso gusto ha detto io faccio solo film con belle fighe e quindi ha preso questa lei lo assolda e poi parte la storia d'amore momento pendolino si dimoneranno verso il finale tu dici per me prima si dimoneranno verso il finale e lui verrà assoldato ufficialmente dalla polizia lavorato a tempo pieno basta questo è quanto per il mese di maggio che bella merda direi che continua la tendenza che già era iniziata con le serie di maggio quindi un maggio che continua a deludere però c'è meno roba coreana qua non c'è neanche una quindi qua già è un win in partenza tanto noi non abbiamo tempo di vedere un cazzo perché siamo tutti quanti al mio matrimonio tutto il mese ah viene anche tu Fede tutto il mese non sapevo che ci fossi anche te al matrimonio bella si sono quello che mette di Atipical Family sul muro ah già 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 se hai coraggio lo fai e io sarò lì a guardarlo nel momento in cui c'è il brindisi tu l'unico girato a guardarsi Atipical Family io dirò è bello bella questa scena oh guarda sta cominciando il pilota di Chief Detective 1958 bella bella vi salutiamo con un breve spoiler ovvero nella prossima puntata ci saranno non uno ma ben due ospiti molto speciali e molto importanti sarà una puntata molto italiana non c'entra niente con il Vaticano cosa c'entra il Vaticano con una puntata molto italiana abbiamo Benedetta Porcaroli e Alessandro Gasman esatto per loro non ci sono beh Benedetta Porcaroli se volesse chi siamo noi per dire di no anche Gasman benvenuto Gasman guarda cosa c'è ah ospite ah ospite scusa ah ok 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 sì sì ospite sì pensavo altro scusa sì sì ciao da Berlino Edimburgo e da Brescia periferia provincia e anche e anche Stato Brescia città-Stato sì sì ciao ciao sì sì Brescia Caputmundi perché era tipo aveva avuto qualche catastrofe che il padre era morto se l'ha preso male ok e questo va bene ah no no ok vabbè chi se ne fotte sto strozzo you know that gets funnier every time you're being sarcastic but I think it does actually get funnier every time